Niente trucchi, c'è solo una soluzione. L'unica che vi renderà liberi. La mia morte. Nessun piano. Non capisco come abbiano fatto a prendere vita, ma si meritano la libertà. Immagino che non ci crederai, ma io non volevo far soffrire nessuno di voi. Mi dispiace. Ecco che cosa accadrà. Voi libererete tutti i prigionieri, tornerete strisciando nel posto dal quale siete venuti e smetterete di dare la caccia agli alieni. Perché se non lo farete, io vi prometto che lo rimpiangerete per il resto delle vostre brevissime vite.